Buongiorno a tutti, mi chiamo Elia Marenco, ho 23 anni, ho fatto l'alberghiero idronero nel quale mi sono uscito diplomato nel 2018. Tutto oggi faccio il maître sommelier, appoggio radicati a Saluzzo e in primis voglio ringraziare appunto la scuola che mi ha sempre dato tantissimo spunto senza la quale non sarei la persona che sono oggi a livello professionale e voglio anche ringraziare tutti i professori che sono all'interno della scuola che mi hanno sempre dato tantissime opportunità, mi hanno sempre aiutato a crescere al bello lavorativo e mi hanno sempre fatto amare questo lavoro. Grazie appunto ai quali ho avuto anche l'opportunità di fare tante esperienze sia estere che non, come ad esempio ho avuto l'opportunità di lavorare in Australia per un anno come bartender o in Svizzera in dei posti molto importanti i quali non avrei mai raggiunto non fosse per la scuola. Comunque tutt'oggi faccio appunto questo lavoro, penso che lo farò tutta la vita perché ho imparato ad amarlo, ad apprezzarlo e ho scoperto che è sempre pieno di soddisfazioni, non smette mai di stufarmi appunto e detto questo ragazzi spero che imparate anche voi ad amare il lavoro, questo lavoro come ho fatto io, come hanno fatto tanti altri ragazzi anche prima di me e i quali non saremmo appunto le persone che siamo oggi non fosse per la scuola. Detto questo vi auguro un buon inizio lavoro e buona fortuna a tutti!